ciao ragazzi e benvenuti a tutti proprio a tutti in un nuovo video ragazzi oggi vi faccio vedere un concorrente ragazzi di dali bms però allora in linea generale dovrebbe essere un concorrente di dali però ragazzi non lo so sai perché sfruttano un'app che è molto molto simile anzi uguale a quella di dali ora qui la questione è o sono sempre loro però stanno facendo una una serie di bms parallela a quelle che già vendono però ovviamente diversificandole come vedi l'app qui è blu 100% e blu le bms sono di colore nero invece nelle dali di nascita il colore prevalente il rosso perciò le cose sono due o un'altra ditta cinese ha copiato lo stile perché come vedi sono simili ha copiato anche l'applicazione e vuole fare concorrenza a dali o dali stesso sta lanciando queste nuove bms diversificandole nel colore la potenza ragazzi sono sempre belle bms disponibili sia per l'idioioni che per l'ife più 4 ma anche per lto ci sono le 3s le 7s le 10s le 16s per esempio quella che io sono in possesso è una 16s però è la dali bms questi sono un altro brand almeno sono venduti con un altro brand ibms hanno sempre la porta ntc power board uart e anche gli accessori ragazzi cioè questo è il l'antennina bluetooth che è simile se non dico uguale tranne che per la copertura di plastica qui con la stampa è uguale a quella di da lì perciò in teoria io credo che siano sempre loro alla fine poi hanno anche cambiato questi come con la colorazione ecco il cavo flat per la per il bilanciamento è sempre questo il cavo con il sensore di temperatura è sempre questo vanno vedi da 3 a 24 s da 30 a 250 ampere e qui abbiamo gli altri accessori questo ce l'ha pure da lì anche questo anche questo anche questo anche questo anche il touch il display touch ragazzi perciò ripeto secondo me è sempre da lì che vuole diversificare i prodotti con due linee separate colore rosso colore nero oppure ripeto potrebbe anche essere una ditta che ha completamente copiato da zero tutto ciò che da lì faceva il software anche quello simile quello per pc cambiano i colori e questo identico ma cambia questo socket qua sono andati sul blu sull'azzurro invece da lì questo item io ce l'ho ed è rosso perché quello da lì questo invece come vedi azzurro va sul blu cioè dico sono uguali identiche e prezzi ragazzi prezzi questi sono un po più competitivi sotto in descrizione vi lascio link trovate tutte le bms che volete sia per lì fe più 4 che per litio ioni e con i sconti riservati eccole qua vedi dissipatore passivo poi ci sono quelle con dissipatore attivo ragazzi onestamente non le ho viste come il mio nello specifico la mia bms alla ventola però in teoria dovrebbero può farle anche quelle con ventolina e qua ti parla della dell'applicazione eccolo qui sette lingue multilinguaggio con sette lingue puoi registrare puoi regolare vedere le informazioni della batteria comunque ragazzi non esiste solo da lì bms ma da questo momento c'è anche h i bms ai and chips ok se siete interessati a vederle a studiarle sotto in descrizione vi lascio i link ripeto e niente per questo video ragazzi è tutto spero sia stato utile di aiuto di informazione ciao ragazzi al prossimo video è una marca parallela led da lì bms perché sono davvero davvero uguali guarda questa ragazzi è mostruosa mamma mia è bellissima questa guarda che cavi d'ingresso guarda quello che ha questa interessante qui si possono eccole qui vedi qui c'è anche la soluzione parallela vedi parallelo 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 anche loro stanno sviluppando come vedi qua invece rosso questo è il controller per la parallelo eccolo qui però hanno fatto tutt'altra cosa con tutt'altro brand molto interessante ragazzi molto molto interessante sempre sotto comunque i link ciao ragazzi al prossimo video